Covid permettendo, qual è la prossima gara che vi attende? Per il campionato ci aspetta un incontro abbastanza difficile, oddio, tutti sono difficili, nessuno è facile, perché tutti giocano per vincere, quindi nessuno arriva per lasciarti vincere, quindi sono tutti difficili gli incontri. Però questo in particolare perché ci chiamo contro la Giorgione Trevillese di Treviso, che ultimamente sta facendo bene, è partito un po' in sordina, adesso sta facendo bene, da loro giocano alcuni giocatori che conosciamo, tipo Giuseppe D'Alterio, Provenzano, adesso hanno reinserito un coro e alcuni giovani e è un incontro a cui dobbiamo riflettere, stare attenti, rimanere concentrati, perché è importante. È importante sotto ogni punto di vista, per la classifica, perché ci darebbe tra virgolette quasi la matematica certezza di arrivare alla fase finale, vuoi Final Four, vuoi Play Off, e per tutto insomma.